oh 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 giovane no, eh piano? è piano lo dico io 그렇죠 sono ornato ! devятere il piano il perio ch voi ch hommes se ne va ! va beh ilрокone ... va ? Gesù ! EEEGh E규 . eh giovane ! La bicicletta qua ferma non può stare la devi spostare ! hey ma ? Io non lo so guarda qua quattro porto il puesto posso vчивi la biciclette allarme ? Manisciallo ? Chi è ? Scusi vengo un attimo per favore ? questa è la signora ora vengo Dica signora. Qua la bicicletta ferma non può stare vicino a casa. Quello ragazzo, giovane, vieni qua, vieni qua. Ma che succede? Che succede? Non lo capisco, ho capito io. Perché prima ti ho fermato che sei da zig zag ma non mi sma. Ma mi lascio la bicicletta qua e la signora ha ragione. Qua la bicicletta ferma non può stare. Non può stare, ferma. E vogliamo la dondoliamo? Eh? La dondoliamo appena appena da qui? Come la dondoliamo? Vedi? La dondoliamo? Non sta ferma. 5 minuti devo stare. Ma le so. Muovendo. Un po'. Alla dondoliamo. Signora, vede dalla marca che sta dondoliamo alla bicicletta. Non lo so, hai detto che stai capisci pure la ninana nella bicicletta. Sì, sì. Qua la grande.